Una donna che orina sull'aiatollah Kamenei. È la vignetta che ha scatenato l'ira della regime iraniano contro il giornale satirico francese Charlie Hebdo e contro l'autore del disegno, il vignettista retino Paolo Lombardi. Così, dopo le minacce social al giornale satirico francese, le autorità italiane hanno deciso di alzare i livelli di vigilanza per il disegnatore toscano. La vignetta è stata pubblicata nel numero di Charlie Hebdo dedicato a Kamenei e Lombardi, 59 anni, ex operaio e oggi in pensione. È uno dei 35 vincitori del concorso bandito dalla pubblicazione francese. Si è meritato addirittura la prima pagina del numero speciale che commemora l'anniversario dell'attentato del 2015 contro la redazione di Parigi e che prende di mira le repressioni della regime iraniano. Il disegnatore retino è sotto l'attenzione speciale delle forze dell'ordine per il plausibile rischio di azioni sconsiderate. Nei prossimi giorni la prefettura di Arezzo deciderà se adottare misure ancora più mirate. Lombardi ha già un curriculum riconosciuto nei giornali francesi avendo pubblicato vignette per Le Monde e Le Figaro. Questa vignetta, spiegato, è frutto della mia indignazione per quanto accade in Iran. Considero la libertà di espressione fondamentale e attraverso la satira ho la convinzione di difendere anche la libertà.